Come è andato questo viaggio di Porteventura a Barcellona? Hai qualche dichiarazione per la stampa? Allora, pensavo di morire, ma alla fine non siamo morti. Quindi bentornati e benvenuti nel vlog di oggi, ragazzi. Prima giornata di firma copie. Stato attuale. Ho paura, cioè mi sento terrorizzata, non so come farò a... Sì, diciamo che siamo abbastanza in tensione e io vorrei esserle di supporto, no? Perché così dovrebbe funzionare. Ma tu sei più ansioso di me invece? Vabbè, mi ha smerdato subito a tempo un secondo e mezzo nel vlog. Comunque vabbè, ci vediamo dopo che adesso dobbiamo andare. Che giustamente stiamo andando avanti per due ore, tre ore d'anticipo, no? Sì, sì. Andare lì prima ci farà avere la parvenza di avere sotto controllo la situazione. Come si fa a essere tranquilli in queste situazioni? Non lo dire a me perché oggettivamente non lo sono affatto e non sono io. Elisa True Crime. Vabbè, ce la farò. Sì. Siamo arrivati all'ingotto con quelle tre orette di anticipo. Sì, dov'è il mio bicchiere di vino? Adesso ci andiamo a avere un bicchiere di vino. A avere un bicchiere di vino. Andiamo da Italy, subito a stemperare i toni. Sì, dobbiamo... Mi sembra di avere un parrucchino, che succede? Io e il mio marito parrucchino andiamo a bere un prosecchino. Hanno messo il filibro in vetrina. Sono io. Vero? Pazzesco, non l'avrei mai detto. Ciao. Ciao. Edoardo, ciao. 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 Hai preso i miei, li hai messi in prima fila. Quando vedranno questo filmato sarà troppo tardi. Non hanno voluto, io ho preventivamente chiamato, anzi Saverio ascoltami, l'ho chiamato e lui mi ha detto no, 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 no. Ma perché no, 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 no? Noi restiamo qui. Un discorso chiuso. Bene. Se gli facciamo uno scherzo, tra me non ti facciamo salire. Ecco così. E' bello. Buon iniziatur. Grazie. Io. Ciao. E vabbè, come sempre sono io quello a fare dietro le quinte, con la palpitazione e l'ansia. In realtà siamo felicissimi, ragazzi, tantissime emozioni, che non mi nascondo. Ci siamo. La prima dose del film a copia inizia ed è bellissimo perché siamo in un cinema, ma vi farò vedere meglio. Quindi, per non smentire mai, andiamo in scena con uno sprizzi in mano. Mi sembra giusto. Forzare un po' la dita. Pronta? Sì, dai. Per se appena arriva facciamo... Su le mani! Manco fossimo. Respira. Sì, anche se è stato. Siamo intimi, siamo io e te. Come on. Bene, ragazzi, bene allegati. Noi stiamo cercando di non smentire e quindi tra noi... Io e ragazzo. Sì, sono 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 io e ragazzo. qualche giorno fa e abbiamo scoperto delle amole cose in comune. Io cominciai proprio a chiedere a Elisa come si sente, come si inizia il board, il caso primo abiturro, tutto che conduce. Molto apprezzionata, moltissimo, è la prima volta per me e non vi vedo tantissimo, ho un po' oltre risultati, sono molto corretta di me, non si permette. Allora, quello che va a chiedere a Elisa è questo che è scritto post per altre fronte per il l'opera si chiama per prima. Sì, siamo arrivati a dove c'è. Allora, va a chiedere a senniare il compito. Lissi. Io ho fatto un video, io ho mai. Io, io ho. E' un po' che interessa. Allora, l'Italia si va a chiedere con i stoi e, e ci sono quelle storie che sicuramente non mi fanno dormire l'opera. Sono delle storie che sento in tv e mi si arrabbano addosso. E in un certo senso mi piace la cosa. Mi piace sentire davvero le storie. E come è stato scritto? Che è una logica cosa, quella che fanno lunghe in te con te? Molto, molto diverso. Infatti mi ricordo ancora proprio l'emozione che ho provato quando mi sono seduta per la prima volta a scrivere. Io scrivo tutto il giorno, tutti i giorni per preparare, insomma, i video. E quindi mi sono seduta e ho iniziato a scrivere. Però, l'idea di non avere la possibilità di usare la mia espressività, come sono sui video, che benedica, insomma, a chi scrive e che vi preparo, mi ha un po' mandato all'epanico. All'inizio sono andata nel panico, ho guardato e dove mai ho detto mi ha detto, mi ha detto, vai, 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 vai. E vedete, no. Non ce la faccio, non ce la posso fare. Però poi, io cambiando un po' la rispettiva e ho deciso di scrivere il modo un pochino più distaccato, sicuramente, anche quello che io ho sentito la notte e l'ho fatta posta per approcciarne questo movimento storiale e poi tradizionale con me, come le persone che ho reagito, insomma, a quattro te che non sono scritte e non ho un po' la rispettiva. Grazie. Ciao. 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 Ascolta, io sono anche una mamma, truccherò anche io. Io volevo chiederti, ma la tua mamma come sta apprendendo questa cosa, di questo successo, di questo itinerario che tu stai nel corraffindone? Stai dicendo. Ti devono a lei. No, ma so che... So che lei vuole... Eccolo! Dai. Io non ci credo. Sì, ma io voglio il sistema e che come a me non ci credo tanto, vorrei rispettare. Sapete? Sapete? Sì. Sì. Come tutti, tra tutti. Sì. Dite particolarmente scioccati. No. Nessuno lo dice, ditelo. Sono particolarmente scioccati. Uno. Particolarmente scioccati. Allora, è finito il firmacopie, il primo firmacopie della mia vita. Chi c'era può confermare il fatto che io fossi molto agitata all'inizio. E' stato bellissimo. E' stato bellissimo. E' stato bellissimo. E' stato bellissimo. Non so, non so neanche... Mi avete inondata di amore. Vedervi, cioè proprio vedere le vostre facce, vedervi come persone fisiche, abbracciarvi uno per uno. E' veramente una cosa emozionante. E' stato bellissimo perché c'erano tante persone. C'erano anche persone accompagnate dalle mamme. Le mamme a loro volta seguono il canale, seguono i miei video. E' stato emozionante. No, ragazzi, è stato emozionante. Però posso dire una cosa. La tua community che oggi abbiamo avuto modo di conoscere è bellissima. No, veramente bellissima. Siete bellissimi, ragazzi. Siete educati, rispettosi, delicati. Siete dolci. Mi avete fatto piangere. Mi avete chiesto di fare le foto, anche a me. Certo. Ma io sono tutto rosingato. E' stato bellissimo, grazie. No, ragazzi, io... Vabbè, c'è ancora domani, quindi non ci dilunghiamo troppo. C'è ancora domani, cioè ci sono ancora un sacco di giorni in realtà. Però a Torino c'è ancora domani, quindi in questo vlog vi farmi vedere oggi e domani. E tra l'altro c'è stato un ragazzo che magari guarderà questo video che mi ha detto fate più vlog perché i video del canale, appunto dei vlog, mi fanno stare bene. Quindi fateli perché sono i miei preferiti. E quindi effettivamente dovremmo farlo di più. In giusto, li facciamo? Sì, sì. E va bene. Ok, ci vediamo domani. Adesso noi stiamo andando a casa... Da Penny! Da Penny. E mangeremo una pizza sotto le coperte. E domani si riparte. Beh amore, ma dopo questa data celebrativa di firma copie cosa vuoi? Non andiamo a festeggiare facendo una cena celebrativa? Io sto già celebrando. Ah, per conferma a chi ce l'ha chiesto. Ovviamente camera caffè sul divano. Con la piccola Penny. Davide andettoni. The next day. Ah, bellissimo questo setup come ufficio. Così di concentrico. E questa è la parte nazionale. Sì. In pochi anni Elisa De Marco, in realtà alias Elisa Chukraim, ha cambiato radicalmente la sua vita e ora ce la racconta qui alla stampa. Ciao, benvenuta. Grazie. Insomma, una torinese non poteva non essere ospite della stampa. Partiamo da questo. Sono molto grata di essere qui. No, ma siamo contenti noi di averti. Ok, stiamo andando alla seconda data, sempre a Torino, al Green Pea. Allora, io posso dare la mia conversione di questa risposta. Nel senso, io penso che siano tutti più interessati a avere una camera. Io sono una persona molto spontanea, spero si percepisca. La mia vita è cambiata nel senso che adesso posso scegliere, nel senso che faccio il lavoro che mi piace. E mi ha permesso, ho la fortuna di poter, per esempio, scegliere di vivere dove voglio, perché posso lavorare dove voglio. Quindi, con mio marito, mio partner in true crime, che è lì. 3, 2, 1... Particolarmente... Aggiorniamo... Beh, aggiorniamo il blocco. Nella situazione attuale. Cosa succede, Bubi? Tutto bene? Posso mettermi anch'io dentro la valigia. Diciamo che siamo un attimo in una situazione di disagio. Penny, tu che dici? Il disagio è qui? Eh sì, vero? La tua faccia è al vice pro... Sei giudicante, come sempre. Occhietti giudicanti. Ah, ciao, piccola Penny. Ciao. Va bene, ragazzi, la situazione attuale è che siamo assolutamente in un casino più totale e abbiamo il treno tra due ore. Quindi io devo finire la valigia, Lisa deve fare la sua, devo fare la doccia e oltretutto devo anche finire dei lavori che devo consegnare. Siamo assolutamente in ritardo, siamo per perdere il treno, ma... Ok, let's go! Ciao, famosio. Allora, prima tappa del tour finita, o meglio, sono state due, a Torino. E adesso siamo a Milano, accolti da un tiepido sole. Eli è in camera che si sta riposando un po'. E siccome oggi abbiamo tanti sorrisi da fare, ci siamo dimenticati gli spazzonini da denti. E quindi vado a comprarli, altrimenti oggi non sorridiamo più. Ma comunque... Abbiamo avuto molto fortuna, in realtà devo dire che non c'è tanto freddo. Ci aspettavamo molto peggio. E niente, è andato tutto benissimo. Tutte le anze sono passate, perché è stato bellissimo veramente incontrarsi con tantissimi di voi che magari mi state guardando in questo momento. E io rimando nuovamente gli abbracci e i saluti, i baci e le coccole che ci siamo scambiati durante questi giorni di firma copie. Grazie. 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 Grazie a tutti per essere qui. Grazie. Come è nato questo progetto e come è stato scrivere un libro? Allora, il libro è nato, è arrivato e ho sempre sognato di scrivere un libro da piccolato. Ho sempre voluto farlo, avevo il mio libro scritto a mano, che ogni giorno ho aggiornato. e poi pubblicato e alla fine è insomma un successo. Iniziamo tutti gli anni in Europa, però non penso. iniziamo tutti perciò che restituire un video. Come è nato? No, come è nato? Ma è nato? No, come è nato? No, come è nato? No, no, non ho nato. Non penso che ti permettermi andare in fondo e non sto a fare parte di un tree. No, ma è nato attenzione. No, no, non possoяли? No, non posso aspettare? No, non posso accettare. No, non posso non accettare? Allora, non è nato un po' non posso capire? Situazione attuale Disastro Esplosione Dopo un film a copie Da mille persone in coda E dopo aver mandato a cagare Tutti gli inviti a cena di questa sera Per celebrare Servizio in camera Et voilà Siamo sopravvissuti a Milano Vieni vieni voglio dirgli delle cose Siamo sopravvissuti a Milano E' stato Incredibile Eravate tantissimi No ragazzi davvero Neanche ai concerti Eravate quasi mille persone Però c'erano quasi mille persone Più di mille persone Non ho capito ancora Quante Ma tante Ed erano tutti bellissimi Super emozionati Ed erano lì Con un sacco di amore e di affetto Ci avete fatto un sacco di regali Ci siamo portati a casa Quattro buste piene di lettere Regali E' stato bellissimo E' stato emozionante Io mi sono emozionata Mi sono commossa Ragazzi mi avete fatto sentire una star Tutti che mi chiedevano di fare la foto E beh certo Sono in pigiama in questo momento tremendo Ma mi avete fatto sentire troppo figo Grazie E io mi sono commossa Durante la presentazione E domani Domani andiamo Dove andiamo domani? A Parma Parma Però questo vlog Lo facciamo terminare qua Magari Parma Diciamo Delle tappe di vlog Torino Milano Parma Carpi Firenze Ok Roma Napoli Vari Lecce Quattro vlog Li pubblicheremo entro luglio 2043 Ma arriveranno Arriveranno Madonna che capelli Ragazzi Wow Bellissima Vabbè io così Vi saluto Ciao ragazzi Ci vediamo presto Grazie Ciao a tutti Ciao a tutti